dati contenuti narrati se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile il mistero dei bambini di rebiribo 00 capitolo 44 mi alzai con i sensi di colpa cazzo non voglio che mia figlia stia male per colpa mia devo trovare indizi ma cazzo è difficile teo come mai così pensieroso est lo sai devi trovare risposte se non le cose si possono mettere peggio sì ma cazzo è una cosa troppo complessa e seriamente non me la sento est e allora cazzi tuoi dice che non vuoi che tua figlia stia male e non trovi risposte arrangiati non so più come dirtelo fa per andarsene ma io la blocco la bacio uff adoro i suoi baci meno male che non si è tirata indietro finimmo per fare l'amore l'amore serio ci rivestimmo e andammo a fare colazione che bello sarà ci ha preparato dalla tavola e i piatti sono già lì grazie amore figura di papà ora vado in camera vi lascio soli senza farmi rispondere salì in camera